Siamo molto onorati di presentare questo libro che è un libro fatto a mano, come diceva anche Enrico Tallone, un libro stampato con 420.000 caratteri mobili e interamente realizzato a mano. Viene presentato in una libreria storica per rivocare una celebrazione che è quella della Firenze capitale, nella quale però Pinocchio si inserisce non come un romanzo esclusivamente destinato per bambini, ma come un libro da rileggere soprattutto ad adulti, perché una lettura in chiave moderna di Pinocchio riteniamo che possa essere molto, molto illuminante per capire tutta una serie di personaggi citati nel romanzo di Collodi che sicuramente hanno sempre connotato il paese dell'Italia.